Stamattina si è concretizzata un sogno che da tempo avevo sollecitato e portato avanti il Consiglio Comunale, quello di portare qui, presso la Casa di Sant'Alfonso, la Commissione Cultura con la sua Presidente. Stiamo cercando di valorizzare questo sito, valorizzare la Casa Natia del Santo perché credo che sia giusto come si dia tanta disponibilità, tanta apertura a tanti siti che non hanno la stessa importanza di questo. Oggi l'Amministrazione Comunale sta aprendo anche a quest'area e quindi alla Casa stessa di Sant'Alfonso. Ci auguriamo veramente che questi progetti, questi programmi che la Presidente e la stessa Commissione sta mettendo su, possono arrivare a buon fine per dare una visibilità a un territorio che per molti anni ha dormito e speriamo che possa finalmente svegliarsi con queste iniziative. Ogni anno 10.000 visitatori si recano nel Borgo Alfonsiano a Marianella per visitare la Casa Natale di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Sono soprattutto turisti provenienti dall'estero, fin dal Giappone e da Taiwan, per omaggiare questa parte della straordinaria storia religiosa di Napoli, una figura poliedrica conosciuta in tutto il mondo, l'autore più prolifico e più letto dopo la Bibbia. Per riflettere sull'importanza di inserire nuove aree negli itinerari turistici cittadini, la Commissione Cultura del Consiglio Comunale ha visitato oggi il complesso, in un territorio che nel Settecento rappresentava il miglio d'oro all'interno della città, in cui c'è anche un importante sito archeologico romano risalente al II secolo avanti Cristo ancora tutto da indagare. Tutti elementi da valorizzare per creare un indotto intorno a queste grandi potenzialità, con iniziative già intraprese o da avviare, come la ridefinizione della toponomastica, la creazione del museo, il ripensamento della viabilità e l'installazione di una segnaletica più efficiente. Quando si parla della necessità di riqualificare le periferie si parla anche di creare questioni di sviluppo e sicuramente questo borgo è già di per sé qualcosa di compiuto e che può essere ulteriormente sviluppato anche da un punto di vista turistico se noi riusciamo attorno a questa realtà che già c'è di Sant'Alfonso dei Liquori a sviluppare anche l'area archeologica e quindi a fare sì che questo borgo diventi di nuovo un borgo della città.